si erano dimenticati si erano dimenticati ah ok ah non ho il fallo erano due falli ah non ho mai vai se dipende tutto vai 2 fa due punti a zero vince beh vincono questa squadra se pareggiano perdono invece vince cose sono gli altri ok vai Laura andiamo via andiamo via quindi questo è un fallo ma sono fuori questo è un po' montando no avrà attrezzato il filo beh ho sei ah è è bravo bravo ah 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 adesso anche se pareggiasse si è si si se pareggiassi eh si vincono pareggio vittoria e vincono i rossi per un punto no, sono tutti pari pari se pareggiano se lei vince ah se vince, si 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 se vince si però deve vincere 2 a 1 non manca tanto manca quasi un minuto e mezzo ma però ci sarà la pausa aspetta, un po' di più era scoperta ma un po' di più un po' di più Stava scivolando Stava caricando la presa